Ok, allora ci siamo, direi assolutamente di cominciare, allora buongiorno a tutti, Gianluca Pucci come sempre a tenere questi appuntamenti ciclici, e oggi andremo a parlare del Watch Car Cloud, la nostra infrastruttura di riferimento associata al concetto di unified security platform che tende sostanzialmente, tende e tenderà sostanzialmente a rendere sempre più unificato il concetto di piattaforma, non solo per il management, per log e reportistica, ma anche poi in futuro per far confluire, diciamo, tutti gli aspetti di correlazione degli eventi di tutte le nostre tecnologie. Prima di cominciare ad analizzare l'infrastruttura Watch Car Cloud, un paio di note organizzative, come sempre, allora il webinar è registrato, quindi per chi non avesse poi modo di vederlo, o magari volesse rivederlo ulteriormente, ci sarà la possibilità di consultarlo attraverso il nostro canale YouTube. Tempo tecnico, finita la trasmissione, di uploadarlo e sarà disponibile. Seconda cosa, per una migliore fruizione del webinar stesso e per una migliore organizzazione, facciamo confluire le domande alla fine del webinar, quindi resterò a vostra disposizione alla fine del webinar appunto per rispondere alle vostre domande. Come diciamo, come tracciatura potete, quando vi vengono in mente, potete sicuramente postarle nella chat, in maniera tale da dare poi a me il riferimento per andare ad analizzare, insomma. Vi chiedo scusa del rumore di contorno, purtroppo sono immerso da cani, avendone anche uno io, comunque spero possiate capire. Allora, Watch Car Cloud. Il Watch Car Cloud è la nostra infrastruttura che ormai da tempo si occupa, e sempre più insistentemente, di coinvolgere, aggregare e rendere disponibile tutta la nostra tecnologia divisa nei nostri quattro pillar tecnologici che compongono il nostro portafoglio, quindi Firebox, identificati come Network Security, Multi-Factor Authentication con il prodotto Outpoint, Wi-Fi Security con la nuova nostra serie di API Wi-Fi 6, e chiaramente la più recente acquisizione della part Endpoint, ormai diciamo, formulata con la coniugazione con la nomenclatura Watch Car, di Watch Car Endpoint Security, con appunto le soluzioni Endpoint e tutta la modulistica necessaria. Il Watch Car Cloud rappresenta un pannello di riferimento, di gestione, non solo per la configurazione, ma anche per la distribuzione e l'organizzazione di queste risorse, di questi prodotti, di questi servizi, presso i clienti gestiti. Allora, è un'infrastruttura, occorre chiarire prima di tutto una cosa, è un'infrastruttura multi-tire, multi-tenant. Cosa andiamo a identificare con il concetto di multi-tire, multi-tenant appunto? Allora, ci aiutiamo con questa, diciamo così, con questa piccola immagine. Allora, il tire e il tenant sono sostanzialmente una, partiamo dal tire, una divisione verticale dell'infrastruttura, dove si parte ad avere un capo, passatemi il termine, identificato come vedete dall'immagine dal service provider, che può avere a livello di prima subordinazione i subscriber. Quindi andiamo a, parcheggiamo un attimo l'immagine, andiamo a identificare questa prima divisione, dove il subscriber generale di un Watch Car Cloud, di un ambiente Watch Car Cloud, riferito a un rivenditore informatico, che appunto la sua visione di tipo service provider, prevede con, diciamo, la dicitura overview, il tenant che identifica il service provider di tier 1, di livello principale, e tutti coloro che poi sono sotto, sostanzialmente, sono subordinati a livello 1, ok? Quindi sono gerarchicamente sotto il livello principale del service provider, come vedete, che identifica il partner, quindi il rivenditore informatico. Questa divisione può rappresentare, volendo un'ulteriore divisione, perché le aggiunte degli account che io vado a fare, come vedete, se vado ad aggiungere un account, può essere identificato di tipo subscriber, oppure ulteriormente service provider, che a questa volta sarà un service provider di livello 2, di tier 2, quindi subordinato al service provider di livello 1. Pertanto, tutti gli account che io ho aggiunto qua sotto, come vedete, sono di natura subscriber o service provider, ma sono subordinati, quindi sono sotto a livello gerarchico il service provider di livello 1. La differenza è che, sostanzialmente, il subscriber può rappresentare un cliente singola sede, a livello organizzativo, che ha, diciamo, le sue risorse, a cui andrò poi ad allocare le sue risorse, mentre il cliente battezzato il tenant, l'account battezzato come service provider, può essere ulteriormente strutturato. Mi viene in mente, ad esempio, un cliente che io andrò a gestire con l'infrastruttura sede centrale e sedi periferiche, che quindi io posso articolare sostanzialmente con un'identificazione di sede principale e sedi periferiche come sotto service provider, quindi, scusate, come sotto subscriber. Quindi, vedete che qui si può aprire ancora, nel caso del tier 2 di livello service provider, si può aprire ancora un'ulteriore gerarchia, perché i figli del service provider di livello 2 possono essere subordinati al service provider di livello 2. Quindi, diciamo che i tier rappresentano la gerarchia. Ripetiamo, service provider di livello 1, principale siete voi rivenditori informatici, subordinati potete avere dei tenant a disposizione, o di tipo service provider, come questo in giallo, capo di un'infrastruttura magari distributa da enterprise, oppure di natura subscriber con singola sede. Il service provider di livello 2 può avere un'ulteriore divisione gerarchica con dei subscriber sotto di lui. La movimentazione, invece, orizzontale rende tutti assolutamente paritari nel loro segmento, chiaramente. Quindi, se vado a identificare i figli del provider di livello 1, del service provider di livello 1, sono tutti paritari fra di loro, quindi sono tutti subordinati al service provider di livello 1. Sotto un service provider di livello 2 posso avere dei subscriber allineati fra di loro, ma sotto la gerarchia del service provider di livello 1. Quindi, movimentazione verticale per definire la gerarchia, movimentazione orizzontale per andare alla dividere sostanzialmente i tenant fra di loro, perché la peculiarità del multitenant è questa, la divisione logica del dato degli account e degli operatori fra i vari tenant, ok? Quindi, un cliente finale è identificato come tenant. La sua relazione con i superiori o paritari è ovviamente determinata dal suo ruolo rispettando questa divisione, ok? Quindi andiamo a strutturare, identificandosi diciamo così come rivenditore informatico, andiamo a strutturare il nostro albero andando sostanzialmente a creare tanti account quanti sono i clienti che vado a gestire, perché la morte tecnologica, tra virgolette, morte diciamo in senso, come si suol dire, diciamo la coniugazione perfetta del del Watch Car Cloud è proprio quella di andare a rappresentare lo strumento per andare a fornire il servizio di clienti gestiti. Quindi si coniuga perfettamente, ad esempio, in un ruolo di partner tecnologico identificato come MSSP. Allora, altra peculiarità, una volta che io ho definito i miei tenant, sostanzialmente ogni tenant può avere delle caratteristiche, fra cui ad esempio degli operatori. Quindi, se io evidenzio ad esempio quello che implica essere il mio tenant di laboratorio e vado nella parte amministrativa, vedo che posso aggiungere degli operatori con un ruolo specifico. Questo ruolo può essere quello di no access, amministratore totale, analista, solo la parte tecnica, osservatore, solo la parte di monitoraggio. Questo che cosa porta? Porta a rimediare ad una situazione che noi avevamo precedentemente alla realizzazione del Watch Car Cloud, avevamo quando i servizi erano tutti incanalati nel famoso portale Watch Car Cloud, portale Watch Car Cloud dove voi andate a registrare sostanzialmente i vostri prodotti, che poi risulteranno essere ovviamente disponibili nell'inventory del Watch Car Cloud, ma questo lo vedremo dopo. Quando avevamo ad esempio il TDR gestibile solo ed esclusivamente nell'area riservata Watch Car Cloud, piuttosto che la parte Wi-Fi, c'era un problema annoso, che magari se il cliente che io andavo a gestire voleva avere una visualizzazione di tipo di monitoraggio, voleva avere un account di tipo di monitoraggio, essendo subordinato agli utenti del portale dovevo dare di un utente del mio portale, che risultava pressoché antipatico e scomodo perché non c'era divisione del dato e quindi avrebbe visto tranquillamente tutti gli altri device che io avevo registrato, ok? Avere come pannello di gestione, di organizzazione, meglio dire, il Watch Car Cloud consente, perché parliamo di tenant, quindi perché abbiamo una divisione logica, consente di fornire degli operatori specifici per quel tenant, quindi se io poi arrivo a dare un operatore specifico, quindi uno di questi operatori, vedrà esclusivamente tutto quello che c'è nel tenant Gianluca Bugi, quindi senza andare a pestare i piedi o avere l'altra visibilità delle allocazioni che io ho effettuato agli altri miei clienti, quindi questa è una peculiarità molto molto interessante. I account di tipo, i tenant di tipo subscriber, quindi quelli identificati come singola sede, proprio perché magari la sede, il cliente si può estendere, può cambiare infrastruttura, possono convergere, possono essere convertiti in account di tipo service provider, quindi un esempio pratico è che un cliente sia singola sede, acquisisca un'altra azienda o si espande, quindi diventi, la sua necessità organizzativa diventa di tipo service provider di livello inferiore, di livello 2, quindi io posso convertire quest'account con, diciamo, una nota di conferma avendo un'organizzazione più strutturale. Quindi punti importanti, possibilità di creare degli operatori, possibilità di andare a convertire l'account di tipo subscriber in account di tipo service provider. Quindi definito a questo punto sostanzialmente il, diciamo così, il, la struttura, ah dimenticavo una cosa, dal punto di vista dell'organizzazione, quindi anche se non lo vedo qui, dal punto di vista di alcune peculiarità di configurazione e di creazione delle, diciamo dei privilegi di accesso, i subscriber possono essere organizzati in gruppi, quindi anche se qui li vedete separati e divisi, se io vado in administration della parte centrale e vado in account group, posso andare a creare una struttura di gruppo andando a posizionare i gruppi dei subscriber. Quindi per esempio, per quali peculiarità? Per assegnare gli operatori e i permessi e andare a definire le policy di configurazione della part endpoint. Voi sapete che non è questo il focus del webinar odierno, ma la part endpoint può prevedere delle policy che io posso andare ad estendere per gruppi di subscriber se sono le medesime. Quindi se i miei clienti hanno le stesse necessità, posso estendere questo template di policy organizzative delle configurazioni dell'inpoint security, quindi dove andare ad agire, che tipo di analisi fare, per gruppi, anche se qui li vedo ancora definiti singolarmente, quindi questo mi proporrà poi all'atto della decisione la divisione per gruppo. Quindi per esempio il gruppo Iberia comprende questi subscriber qui, ok? Quindi dal punto di vista dell'assegnazione degli operatori e i loro permessi e dal punto di vista delle policy relative all'inpoint, ok? Quindi tornando poi, concludiamo con questo la parte relativa alla amministrazione, alla creazione dei subscriber, andando a definire, andando a quindi implementare delle linee guida sostanzialmente per andare a creare la propria struttura ad albero, che ci sarà utile poi per i passaggi successivi. Adesso che cosa mi tocca fare? Tocca andare a pescare nel mio magazzino, nel mio inventory, ed andare a allocare i servizi che io ho registrato, che io ho acquisito tramite registrazione diretta nel mio portale, io mi sto immedesimando in un rivenditore informatico che eroga servizi e che ha dei clienti gestiti, che possono essere acquisiti sia nella commercializzazione classica, un anno, tre anni e rinnovo licenze, oppure nella commercializzazione MSSP. Quindi, contrariamente a quello che qualche anno fa Watchcard proponeva come, diciamo, suggerimento specifico, registrare servizi e, diciamo così, device sul proprio account determina il fatto di poterli avere nel proprio inventory ed andarli a allocare nei tenant dei clienti. Questo quando si fa, quando magari il cliente non ne vuole sapere nulla, non gliene frega nulla sostanzialmente di avere un account Watchcard, perché non vuole occuparsi della parte tecnica, quindi delega tutto a me, oppure nel caso di un rivenditore MSSP, quando la proprietà del dispositivo non è del cliente, a maggior ragione registro tutto sotto di me, e la allocazione dei punti nel portale commerciale, l'MSP Command, determinerà poi la creazione delle licenze qui nel mio inventory, che io andrò poi ad allocare. Quindi, nell'inventory, a livello tecnologico, io mi ritrovo a avere i segmenti relativamente ai servizi barra pillar tecnologici che il portafoglio Watchcard ha. Quindi, la parte outpoint, multi-factor authentication, la parte firebox, che può determinare la gestione in solo log reportistica e manutenzione generale, come locally managed firebox, oppure come fully managed, completamente gestito dal cloud. La gestione degli off-sensor, quindi particolarmente per il servizio TDR, servizio TDR che chiaramente con l'acquisizione della parte nuova endpoint di Watchcard, quindi con l'endpoint security, cambierà, quando finirà sostanzialmente il rapporto di fee commerciale con la precedente tecnologia, cambierà sicuramente player, attore, ma sicuramente non andremo a danneggiare realtà già deployate, andremo sicuramente a favorirle, ma di questo poi ci occuperemo quando questo avverrà. La parte di access point, quindi altro device assieme ai firebox che io vado ad allocare per i tenant, è la parte endpoint. Quindi ognuno di questi, che sia un servizio, che sia un device, mi presenta, diciamo, nel caso delle licenze, license e allocation, nel caso dei firebox o degli access point, unallocated e allocation. Quindi se io vado ad esempio a vedere in outpoint, sotto license, mi troverò le licenze disponibili non allocate, quindi quelle che io otterrò con il quantitativo di utenti relativo da andare poi a, diciamo, ad allocare cliccandoci sopra i vari subscriber. Quindi in buona sostanza che io le acquisisca tramite gestione punti MSSP oppure le acquisti con commercializzazione annuale o triennale, le registri sul mio portale, me le rivedrò qui in maniera tale da avere un cumuletto disponibile che non sarà un'assegnazione licenza subscriber, perché il subscriber alla fine vuole un numero di utenti, quindi io le accumulerò, dovrò avere un numero di utenti accumulando le varie licenze tale da poter soddisfare le richieste dei vari subscriber. Quindi non vi aspettate di associare licenza subscriber, ma dovete avere il quantitativo, l'allocazione, infatti, che vedete qui riassunta, prevede appunto l'assegnazione al account specifico di un numero di utenti, tanti quanti il suo ambiente me ne chiede. Quindi non assegno la licenza, ma alloco il numero di utenti. Il numero di utenti lo acquisisco con la licenza che acquisto, chiaramente. Ok? Quindi è proprio un magazzino di utenti Outpoint. Parte Firebox, che comprende i Firebox non allocati, quindi i Firebox che io ho nel mio magazzino, che andrò ad allocare, a seconda della gestione illustrata precedentemente, al mio subscriber, quindi al mio cliente specifico. Ok? L'allocazione poi ne determinerà una gestione di solo log e reportistica, e manutenzione, lasciando locale la configurazione del Firebox, oppure potrà andare a essere gestito totalmente, quindi anche la parte di configurazione, direttamente dal pannello cloud. Si aggiunge ai Firebox la Data Retention License, che rappresenta l'estensione della retention, del mantenimento del dato. Quindi un Firebox in Basic Security ha un giorno di Data Retention, quindi vuol dire che io per un anno, facciamo un esempio, acquisto un T40 in Basic Security per tre anni. Per tre anni il T40 potrà mandare i log sul Firebox, scusate, sul cloud, ma io potrò andare indietro nella ricerca di un giorno, perché la Data Retention di base è un giorno. Trenta giorni invece è la Total Security. Quindi stesso ITER, stesso esempio di prima, T40 in Total Security per tre anni, per tre anni potrò mandare i log sul Watch Car Cloud, ma potrò andare indietro nella mia ricerca di una mensilità. Ecco, le Data Retention License acquistabili separatamente e associate al Firebox specifico, all'atto della registrazione, determinano un allungamento mensile della retention, al fine di avere una retention della tempistica che mi serve. Qui non ne ho, nel nostro laboratorio non ne abbiamo, però diciamo che se le aveste e le registraste, le trovereste qua, direttamente. Stessa cosa per il numero di Ossensor, che ragiona esattamente alla stregua di Outpoint. Gli Access Point sono, quindi tornando all'Ossensor, io ho il numero di Ossensor e li vado ad allocare, quindi faccio lo spacciatore di Ossensor, li vado ad allocare ai miei subscriber, a seconda di quante gliene servono. La preoccupazione è quella di, diciamo, di accontentare la richiesta specifica del cliente, a seconda della sua infrastruttura. Gli Access Point sono un altro device, quindi mi trovo quelli unallocated, quindi quando li acquisterò e li registrerò, li potrò poi andare ad allocare al subscriber di turno. E la part Endpoint, quindi con le licenze, anche in questo caso, licenza specifica, si va ad allocare all'Endpoint come, diciamo, su allocazione nei vari subscriber, appunto, a seconda delle licenze acquistate. Allora, quindi abbiamo visto la creazione dei subscriber, abbiamo visto la gestione dell'inventor, intesa come magazzino che si arricchirà tanto quanto io registrerò sul relativa portale WatchCard che genera poi il corrispettivo WatchCard Cloud in maniera tale da averlo in magazzino, idealizzate questo magazzino virtuale, andarlo a allocare con questa procedura nei subscriber che hanno bisogno del servizio, del device fisico, ok? Può nascere ancora un'altra necessità che richiama, diciamo, la gestione dei subscriber, che è quella di accogliere nel proprio orticello un altro cliente che ha già il suo WatchCard Cloud. Quindi facciamo un esempio pratico. Un cliente autonomo, un utente finale autonomo, acquista da una, diciamo, da un'entità un Firebox, sostanzialmente, lo registra sulla sua area riservata, se la crea in autonomia, scopre la possibilità di utilizzare il WatchCard Cloud per il Firebox, ma si rende conto, diciamo così, di non essere capace a usare questo strumento. E quindi per questa parte ha bisogno di aiuto. Che cosa fa l'utente finale? Quindi l'utente finale ha una visione diretta, perché esiste anche il WatchCard Cloud per utente finale, ma è monopannello, nel senso che non ha la parte, chiaramente, della creazione dei subscriber, perché lui non è il suo ruolo quello di andare a gestire clienti, quello è il ruolo del rivenditore informatico. Quindi il WatchCard Cloud di un customer, sarà di tipo customer, avrà esclusivamente una visione priva della possibilità di creare i subscriber. Ma tornando alla sua necessità, lui avrà sostanzialmente nella sua dashboard, avrà sostanzialmente nella sua parte amministrativa che tanto si richiama, nella parte di manage access, avrà lo strumento per andare a cercare un service provider di aiuto, quindi qua lo si rilancia nel nostro locator per trovare quello a lui più conveniente, più comodo, o magari, che ne so, può anche non usare questo strumento, magari essere a conoscenza tramite passaparola, tramite amicizia, qualsiasi forma commerciale valida o marketing valida di accountare un utente finale, oppure magari il processo lo fate voi, rivenditori, che accalappiate un nuovo cliente, in buona sostanza, lui avrà bisogno di un grant access per trasferire il suo account, il suo tenant, Watch Car Cloud, nell'orticello del service provider, quindi del rivenditore informatico, che lo ospiterà. Il rivenditore informatico, dopo essere stato contattato, ha la sua stessa stregua, quindi troverà nel menu manage access, la possibilità di generare questa richiesta di associazione, fino a una revoca, oppure in una determinata data expiration, mandando questo format mail, sopra specificatamente con questo codice, all'utente finale che è stato contattato nelle varie forme, ok? Quindi sono nel service provider, mando questo scrippettino al cliente finale che mi ha contattato. Cliente finale che è stato, diciamo che aveva necessità, ritornerà sulla sua parte di gestione e andrà a inserire qui il grant access code, di maniera tale da, fatta questa procedura tramite submit, da ritrovarsi, di mantenere il suo chiaramente locale, ok? Quello non viene cancellato, ma di trasferirlo, di mirrorarlo sotto l'albero del rivenditore informatico che l'ha ospitato, con la scrittina delegated, ok? Quindi questo diventa assolutamente un viatico importante da questo punto di vista, quindi per completare le possibilità di gestione dei vari subscriber. Purtroppo, al momento, un account delegato, quindi un account che viene ereditato, non può entrare in gestione per la parte inventory, quindi, ahimè, al momento, questa è una cosa su cui stiamo lavorando, gli account che vengono acquisiti con questa procedura che vi ho appena schiedato, non possono, non risulteranno nella parte inventory come account a cui allocare servizi. Ripeto, in essere un po' di indagine interna per capire come andare, perché chiaramente se io acquisisco un cliente, poi avrei anche piacere poi di continuare a gestirlo dal punto di vista commerciale, quindi di rinnovare i servizi. Al momento, questo tramite cloud, non è possibile farlo, quindi l'eventuale rinnovo passa alla vecchia maniera, quindi acquisto, registrazione del suo portale che esiste ancora e sincronizzazione, ovviamente, delle licenze che verranno chiaramente sincronizzate anche nel WatchCard Cloud del Service Provider. A questo punto, la gestione tecnica, quindi dopo aver allocato i servizi nel subscriber, posso andare ad avere specificatamente posizionandomi sul servizio scusate, sul tenant che mi interessa, ho i segmenti, ho i menu monitoraggio e configurazione che richiamano i vari servizi, quindi per esempio io mi posiziono sul mio tenant, vado sulla parte device, trovo sotto il mio tenant specifico i device relativamente ai Firebox o agli access point a seconda di quello lancio un attimo se stiamo intanto fa qualche capriccio datemi solo un attimo di ghi a seconda di e a seconda di Grazie a tutti. Grazie a tutti. Ho qualche problema di refresh della pagina, comunque in buona sostanza nella parte di monitoraggio ho la possibilità di andare a scegliere il device di cui mi interessa andare a guardare log e reportistica, quindi esattamente con lo stesso menu di overview di dimension per chi si ricorda il servizio. Quindi, per esempio, su questo T55 vedete replicata la struttura classica di dimension con la possibilità di avere le varie dashboard e andarle a consultare. Stessa cosa con l'access point, quindi anche l'access point ha la raccolta dei log, quindi anche gli API hanno, alla stregua che si tratti di una standard wifi o di una unified security platform wifi, hanno la possibilità di allocare, di gestire un giorno di retention e 30 giorni di retention. Ok? O per un firebox o per un access point i miei report classici comuni in dimension. Oltre chiaramente all'esattamente come fa dimension posso anche andare a gestire le notifiche, quindi andare a utilizzare esattamente come succedeva per i firebox con l'utilizzo di dimension, utilizzare il watchcard cloud per invio delle notifiche relativamente, in questo caso al firewall, o a, diciamo, i vari servizi che utilizzo relativamente, per esempio, se è per i device, device alarm, verranno inviate tutte le notifiche alla realizzazione dell'evento che voglio andare a notificare. Ok? Quindi esattamente come succedeva per outpoint, scusate per il firebox con l'utilizzo di dimension. Ok? E poi ho la parte di configurazione, quindi configurazione a seconda della, diciamo così, della tecnologia che voglio andare a configurare, che sia un device, che sia outpoint, che sia il TDR, che sia l'endpoint, o che sia parti condivise, perché abbiamo delle shared configuration comuni a tutte le tecnologie o dei template che possono essere, diciamo, prese poi in carico con dei device o con dei servizi per andare ad essere deployate in maniera massiva. Per esempio, facciamo un esempio di entrambe le cose, sui device, posso andare a configurare in maniera singola un singolo, diciamo così, un singolo dispositivo sotto device configuration, quindi per la parte di content scanning, network blocking, content filtering, networking e quant'altro, oppure andare ad utilizzare, per esempio, per la parte AP, un template di configurazione, per esempio, nel mio caso è questo qui, e andare a dire su questo template di configurazione, dove io ho raggruppato, diciamo così, gli elementi di configurazione, andare a definire poi a quali access point associare questo template in generale, quindi in maniera tale da generalizzare la configurazione. Ok? Chiaramente questa cosa si può fare anche con i template lato Firebox, quindi andare a definire dei template di configurazione, lato Firebox, e andare poi a decidere, per esempio, su questo template, a quali Firebox associare e applicare quel template, quindi in maniera tale da facilitare una deployment massivo di più firewall che hanno le stesse necessità. Ok? Altri strumenti importanti relativamente al WatchCard Cloud che vogliamo andare a sottolineare, il Dark Web Scan. Dark Web Scan che vi permette di andare a analizzare un indirizzo mail o un dominio, al fine di andare a vedere, per esempio, se questo indirizzo mail o questo dominio sono stati soggetti a, diciamo così, a data breach. Quindi per enfatizzare la necessità di andare a proteggere ulteriormente quell'account con la multi-factor authentication. Quindi andate, io non faccio esempi per non andare a, diciamo, a toccare alcun dominio specifico. Qui nelle FAQ che avete linkato ci sono tutte quante le limitazioni di questo strumento e le precisazioni doverose che vi invito a leggere, ma andate quindi a inserire mail piuttosto che domini, mail chiaramente relativamente a quelle dell'account da cui avete generato il WatchCard Cloud, domini invece una cosa più estesa per andare a valutare appunto le potenzialità di questo strumento. La dashboard vi fa vedere anche, vi indica anche un po' di informazioni generali, quindi la prossima license expiration, i subscriber attivi, i service provider attivi, quanti o sensor avete allocato, quindi tutto quanto il cumulativo. Se non, chiaramente, poi lo specifico per il tenant che vi interessa andare a monitorare con maggiore precisione. Nella parte amministrativa ho alcuni dettagli generali come la possibilità di andare ad attivare direttamente da qui le trial relativamente ai servizi endpoint, ok? Per chi ne ha la possibilità, quindi per i subscriber che non ne hanno già usufruito. Andare ad attivare le funzionalità beta del WatchCard Cloud che verranno attivate man mano che verranno gestite, quindi si entrerà nel beta testing del servizio, ripeto, beta testing. La parte di custom branding, quindi con la possibilità di andare a formattare le varie mail di comunicazione o i vari portali che vengono richiamati da hotpoint o delle altre funzionalità con una brandizzazione propria in maniera tale da arricchire il servizio fornito al cliente finale. La possibilità di associare, di joinare le API, qui chiaramente nel mio tenant aziendale sono state limitate ma nel vostro tenant possono essere aperte per andare ad applicare le application program interface in contesti di associazione con altri strumenti che possono aiutare, diciamo così, a migliorare la gestione dei prodotti. A tal proposito abbiamo tutta la parte di documentazione, visto che non si cita molto questo servizio ma che potrebbe assolutamente tornare utile, reperibile attraverso il nostro link di supporto nella parte product documentation e nella parte API. Quindi qua avete tutto quanto all'explanation, i campi di applicazione, i limiti dovuti della parte application program interface relativamente al WatchCar Cloud, quindi dove può essere applicata, in che contesto o che cosa serve lato tecnico. Ok, io con questo ho finito, vi ringrazio come sempre dell'attenzione, possiamo aprire tranquillamente lo slot delle domande. Quindi apro il pannello delle domande, vedo che ce n'è già un bel po' e procediamo con la loro gestione. Allora, Samuele ci chiede, questo è molto facile, tutto all'inizio, Samuele ci chiede se è possibile rivedere il video. Certo, il video è registrato e verrà uploadato a brevissimo nel nostro canale YouTube, quindi basta cercare WatchCar Italia e lo troverete lì disponibile. Giovanni ci chiede, se il tier 2 è un cliente non ci possono essere sottolivelli come ad esempio uno o più sedi? Allora, il livello 2 puoi, diciamo, l'account quando lo vai ad associare può essere come detto un subscriber, quindi identificato qui con l'omino, con il cerchio sotto per capirci, e quello è una sede singola e non può avere sottoclienti. Se vuoi che venga strutturato come sottolivelli di un solo set però, devi crearlo come subscriber, quindi nel caso per esempio della Iberia, che ha poi, come vedi, la possibilità di creare sotto di lui degli ulteriori account che verranno alberizzati in questa maniera, quindi sotto il subscriber di livello 2. Questa è l'unica livellazione che si può fare, non può essere creato come ulteriore account un sotto service provider, quindi se io sotto il service provider di livello 2, subordinato a livello 1, che è overview, vado a creare un account, l'account creato come vedi è solo di natura subscriber, quindi non posso avere un service provider di livello 3, passami il termine. Non so se era questa la domanda, nel caso puoi riformularla e la finiamo meglio. Poi, Gianni ci chiede, in passato la gestione in cloud impediva la possibilità di utilizzare tool di configurazioni locali? Sì, perché era limitata esclusivamente a log reportistica, man mano il cloud è cresciuto, quindi oggi ci dà la possibilità di accogliere i vari device, come abbiamo visto, e non solo considerarli come log reportistica e manutenzione, ma anche come poterli configurare a tutti gli effetti, come abbiamo visto. Serve, per quanto riguarda i firewall, serve che siano o in basic security o in total security. È in roadmap e avverrà per Q3 la possibilità di gestire un firewall anche se è in standard support. Quindi in Q3 avremo questa possibilità. Sempre Gianni ci chiede, è possibile utilizzare i log in cloud su Dimension contemporaneamente per lo stesso Farbox? Certo, l'uno non esclude l'altro, quindi configurare Dimension nel Farbox non esclude il fatto di poter demandare lo stesso log nel WatchCard Cloud. Sono due connettori separati, assolutamente, e configurabili entrambi. Allora, Pietro ci chiede, se un cliente che ha un firewall e un access point già gestiti totalmente nel suo cloud decide di far gestire il tutto dal proprio rivenditore, mantiene comunque il suo profilo cloud e il rivenditore dal suo pannello può gestire totalmente il tutto come se accadesse nel cloud del cliente? Assolutamente sì. Quindi, come detto prima, la delegazione, la delega non cancella l'account creato dal cliente. Chiaramente però bisognerà capire chi fa che cosa. Ecco, in buona sostanza, se decido di delegare, non mi metterò mai poi a pacioccare, tra virgolette, nel mio... tramite l'accesso al mio portale. Massimo ci chiede, i template di configurazione lavorano a livello di singola policy che si va ad aggiungere sul device oppure intera configurazione per il device? Allora, teniamo conto di una cosa. Un firebox gestito dal cloud prevede una sua filosofia. Quindi voi non potete andare a mettere nel cloud, nel firebox e gestirlo tramite firebox cloud, un firewall che vive, che ha già una sua configurazione. Perché? Perché per essere annesso A deve partire da zero e non c'è nessun porting della configurazione. Quindi questa domanda non si presterà mai ad un'ambiguità perché non esiste il caso in cui il firebox nel cloud ha una configurazione esistente. Perché per annetterlo nel cloud devo partire da zero. Quindi quel template sarà l'unico set di regole che prevede. Modificarlo vuol dire aggiungere o togliere la regola a quel template che già esiste. Quindi non ci può essere ambiguità. Ok? Perché? Perché per mettere nel cloud, se io faccio un esempio, se io ho un T40 esistente da un anno con un set di regole fatte a mano, diciamo finta, 26 regole fatte a mano, e decido di volerlo gestire nel cloud, ci penserei sopra a farlo, perché bisognerebbe resettare quel firewall, aggiungerlo nel cloud e costruire le regole che hanno una filosofia diversa rispetto a quello della configurazione manuale, come siamo abituati, da policy manager o da web user interface. Quindi non capiterà mai un'ambiguità di questo tipo se lo si va a gestire nel Watch Car Cloud. Allora, Giovanni ci chiede, host sensor e PDR, qual è la principale differenza? Si sovrappongono? Cosa prevede Watch Car come roadmap per lo sensor? Allora, argomento sensibile. Allora, l'host sensor, il TDR, sostanzialmente, parliamo chiaramente con le nomenclature, diciamo, vecchie, il TDR è un EDR, quindi è quella componente che va ad affiancare un antivirus statico, quindi il TDR non è un antivirus, il TDR affianca un antivirus a signature statiche e aiuta l'antivirus là dove l'antivirus non può fare nulla, quindi dove non conosce la signature, vale a dire per zero day, minacce avanzate persistenti, ransomware e compagnia bella. Quindi TDR va a braccetto con un antivirus esistente. L'EPDR di WatchCard è antivirus più EDR, ok? Quindi è già quello che il TDR non è. Per fare un paragone uno a uno direi che il prodotto TDR è uguale al prodotto EDR, ok? Quindi la componente, l'adaptive defense, buona sostanza, seguendo la vecchia nomenclatura di Panda, in buona sostanza, ok? Il futuro sarà quello di realizzare un agent EPDR lite, quindi già fornire anche un imprinting di antivirus, per andare a sostituire poi l'agent attualmente inseribile come soluzione TDR, quindi dare valore aggiunto anche per la part and point alla total security e quindi che normalmente si occupa della gestione perimetrale. Elena ci chiede, l'account delegato, dopo l'associazione dell'account customer, può lanciare l'agent dopo il discovery e installare le patch? Tutto quello che è l'account delegato assolutamente, il lato tecnico può assolutamente essere gestito come se fosse un subscriber normale, assolutamente sì. Quello che non può fare è unicamente la parte di gestione commerciale, quindi relativamente all'inventory, diciamo così, di andare a allocare altri servizi. L'interfaccia di gestione del Farbox Cloud è uguale a quella della configurazione locale? Ci chiede Roberto, no, assolutamente no. Sono template, sono filosofie diverse, perché il WatchCard Cloud, la gestione del WatchCard Cloud, tende a racchiudere i servizi UTM in gruppi specifici, realizzando dei profili, cosa che invece alla configurazione puntuale manuale che tu riesci a configurare singolarmente. Gianni ci chiede, è possibile portare un Farbox sul Cloud per la gestione delle licenze e degli upgrade firmware, lasciando il WSM e la WebUI per la configurazione delle policy? Certo, ti faccio vedere come. Nel momento in cui tu vai ad aggiungere un Farbox, quindi vado su Configure Device e vado a fare Add Device come Farbox, ti viene chiesto se lo vuoi gestire come local management, quindi gestito localmente come web user interface e o WSM, oppure come cloud management, totalmente gestito dal cloud e ti giochi, in questo caso, la gestione locale, o quantomeno avrai un warning che ti dice che non puoi gestirlo localmente. Ok? Quindi la risposta è assolutamente sì. Ritorniamo alle nostre domande. Sì. Ok, Matteo ci chiede quando sarà possibile convertire una configurazione stand alone sul cloud? Attualmente non è in roadmap, attualmente non lo è. È una discussione interna, questa te lo posso garantire, però non è inserita nella roadmap. Chiaramente quando avverrà, quando ne avremo il sentore, sarà chiaramente correttamente enunciato quando ci sarà la possibilità di avere questo passaggio. Emanuele ci chiede notato che a volte gli upgrade di firmware segnalati nel cloud non possono essere avviati dal cloud, ma viene richiesto un intervento in loco. Qual è la discriminante fra i due casi? In questa casistica qui è meglio aprire un caso al supporto, perché i ragazzi hanno i dettagli, hanno le istruzioni per definire quali sono i limiti e i consigli su quando eseguire un upgrade locale. Quindi tendenzialmente, diciamo che lo strumento cloud semplificherebbe questa cosa, è vero che ci sono casistiche in cui viene suggerito localmente, ma per avere più informazioni e motivazioni è meglio aprire un caso al supporto dove vi daranno le best practice migliori per quella specifica release. Allora, Roberto, in questo frangente, Roberto ci chiede, potresti farci vedere molto velocemente come si vede un Firebox Cloud Managed? Se mi mandi una mail di promemoria, ti invio un webinar ad hoc già registrato appositamente per questo, perché questo slot non è dedicato a questa argomentazione e la parola non riuscirei in maniera molto velocemente a fartelo vedere, ma allo stesso tempo a fartelo capire. Quindi, se mi puoi mandare una mail a gianluca.pucci.watchcar.com, ti invio il link di registrazione dove ho, diciamo, già descritto il funzionamento del Firebox come Firebox gestito. Matteo fa un commento e ci dice pessimo, clienti strutturati non sono sostanzialmente migrabili. Io ti posso rispondere che a tutti gli effetti il Watchcar Cloud è uno strumento ufficialmente per la gestione totale dei Firebox. Non ti sto parlando della gestione di log e reportistiche e manutenzione, ma ti sto parlando della gestione totale che semplifica di molto le funzionalità complesse di un firewall normale perché, ad esempio, non hai la configurazione dei template proxy, non hai le parti di networking complesse o quantomeno non le hai ancora. è uno strumento da considerare per nuovi clienti che hanno necessità più semplificate e distribuite in maniera uguale, quindi uno strumento per andare vincente, per andare ad essere più aggressivi e accattivanti magari in una realtà di una catena di negozi, di retailer o quantomeno un ambiente distribuito ed enterprise. Non lo è per i motivi diretti per i clienti già esistenti. Non abbandoniamo relativamente al Watch Car Cloud i clienti già esistenti perché proponiamo loro una formula intermedia che è quello di annettare il Firebox nel cloud preservando la gestione locale. Quindi, se loro hanno necessità di avere una configurazione molto più puntuale, molto più forte, molto più specifica e dettagliata, è chiaro che lo strumento principe è il WSM per realizzare questa cosa, ma possono tranquillamente utilizzare il Watch Car Cloud per manutenere log reportistica, generare report e fare manutenzione generale. Quindi, non è sicuramente una rinuncia per i clienti già realizzati. Massimo ci chiede per curiosità ma il centralized management tramite WSM è ancora attivo? Certo, è ancora fattibile per una gestione centralizzata con il template, con il layout di gestione del Watch Car System Manager, quindi del Policy Manager. Rispondo ulteriormente di nuovo a Matteo, che diciamo il templating relativamente alla gestione via Policy Manager esiste proprio grazie al management server, quindi alla componente del WSM che ci consente una gestione centralizzata ma utilizzando il layout completo del WSM quindi con tutte le configurazioni anche quelle più complesse relative che il WSM ha sostanzialmente che sono state esemplificate invece nel Watch Car Cloud. Quindi, un'altra modalità per gestire centralmente i prodotti in alternativa al Watch Car Cloud è il management server dove lì potete annettere assolutamente dispositivi che hanno già una configurazione esistente senza arrivare a drasticamente doverli resettare come invece succede nel cloud. Emanuele ci chiede un Firebox Management nel cloud quando perde la connessione internet al cloud può essere gestito via WSM? Sì, è l'unica condizione in cui diventa raggiungibile via WSM. Assolutamente. Andrea ci chiede come posso fare i backup delle configurazioni di un Firebox sul cloud? Non fai backup, fai il backup image che è il ghost passano il termine della struttura del Firebox. I backup delle configurazioni sono fattibili ancora esclusivamente parlando di configurazioni solo ed esclusivamente con la gestione locale quindi via WSM piuttosto che via web user interface. Tramite il watch car cloud fai questo che ti mostro ora la realizzazione dei backup image quindi il backup image è sostanzialmente una immagine del Firebox specifico legata alla release esistente che contiene tutte le informazioni compreso il file di configurazione ma parlando del solo file di configurazione non è ancora fattibile farla attraverso il watch car cloud parlando del solo file di configurazione chiaramente. rispondendo ad Emanuele sì il Firebox una volta che diciamo ritoccando la sua domanda precedente una volta che riacquisisce il contatto con il cloud se è un cloud manager riprende autoritativamente la configurazione nel nel watch car cloud direzionalmente interpreterà le configurazioni ereditate dal policy manager ma sempre strutturandole con la filosofia del cloud ma il porting non lo strumento di porting non esiste comunque allora rispondo ad Andrea che mi chiede se è possibile attivare una trial per outpoint per un cliente la risposta è sì ti mando le istruzioni se mi mandi una mail gianluca.pucci che ho c'è la watch car punto com così te le indico a livello puntuale potrai avere 250 utenti per 30 giorni rinnovabili per altre 30 giorni ok vedo che non ci sono altre domande io allora vi ringrazio avete i miei riferimenti gianluca.pucci che ho c'è la watch car punto com e vi do appuntamento vi auguro un buon weekend e vi do appuntamento al prossimo webinar grazie mille buona giornata a tutti